Alla presenza delle massime autorità della provincia si è svolta in Ragusa la celebrazione del 71esimo anniversario della Fondazione della Repubblica con una sobria cerimonia presso il Giardino Ibleo. Il prefetto Maria Carmela Librizi ha quindi passato il rassegno allo schieramento del picchetto Interforze, dei gonfaloni dei comuni della provincia, dei labari, delle associazioni combattentistiche d'arma. Poi la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e nel corso della cerimonia si è proceduto come da tradizione alla consegna di alcune onorificenze, in particolare al già commissario straordinario della provincia Giovanni Scarso che è stata conferita all'onorificenza di grande ufficiale della Repubblica. Poi quelle di Cavaliere conferite a Orazio Fave, brigadieri dei Carabinieri, a Benedetto Mastro Simone, sovrintendente di Polizia, e a Giovanni Raffo e Massimo Rizzotto appuntati scelti della Guardia di Finanza. Durante la manifestazione celebrativa è stata anche possibile ammirare in un'area dedicata le motociclette in uso alla Polizia Stradale che hanno arricchito sul piano scenografico della cerimonia.